Il Governo regionale non inserisce nel bonus Covid i lavoratori del 118. Il Governo regionale, nel recepire l'osservazione formulata dal Ministero dell'Economia, come peraltro già da me ampiamente denunciato, ha modificato i commi con la deliberazione che, se avessero avuto un po' di umiltà, non sarebbero passati 12 mesi inutilmente, creando enormi difficoltà al personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Spiace osservare che il Governo regionale ha dimenticato di inserire il personale del 118, creando una disparità di trattamento insopportabile, non mantenendo gli impegni assunti, fra l'altro sbandierate ai 420, con toni trionfalistici da Salvatore della Patria. Chiedo quindi di modificare la deliberazione inserendo i lavoratori del 118 e mantenendo così la parola a suo tempo data. Ho già chiesto, ha concluso Vinciullo ai deputati regionali della Lega Sicilia, di presentare un emendamento al fine di modificare la deliberazione 181 e inserire i lavoratori del 118, come è giusto che sia, per cancellare questa insopportabile disparità di trattamento fra lavoratori che hanno svolto lo stesso lavoro.